Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Questo è il tweet di Salvini, piena solidarietà a un uomo di 68 anni, dopo una vita di impegno e sacrificio ha difeso la propria vita, a meritare il carcere dovrebbero essere altri, veri delinquenti, non Mario Rogero. E' anche detto di voler cambiare la legge della legittima difesa, non lui ma un alto dirigente della Lega. Mettiamola in fila, nel caso non c'è complotto, non c'è per costituzione dell'alibi, in questo caso ci troviamo di fronte a una scissione della personalità. Perché Salvini è quello che ha modificato la legge che è stata applicata per questa condanna. Quindi prima di tutto Salvini si mettesse d'accordo con se stesso, poi prima ho ascoltato il dottor Sabella, credo che abbia centrato un punto. Io non ho seguito il processo e non voglio intervenire in un processo che tra l'altro ancora non si è concluso perché ci sarà un ricorso di averlo. No, poi stiamo vedendo le immagini mentre lei parla. Ma mi pare che la situazione fosse molto lontana dalla fattispecie della legittima difesa. Poco fa è in corso alla Camera un question time, cioè quando i ministri rispondono alle interrogazioni, alle domande che i deputati, uno per gruppo, gli chiedono. In questo momento sta parlando la ministra Roccella, poco fa ha parlato, a breve parlerà il ministro Crosetto sul caso dell'indagine interna all'esercito del generale Vannacci. Ma ha parlato poco fa il ministro Tajani, il ministro degli esteri Tajani, che è andato sul tema della riunione a Firenze dei destri europei, chiamate, convocate da Matteo Salvini. Ha detto Tajani, coloro che sono preoccupati per i rapporti della Lega e il danno arrecato alle posizioni dell'Italia, nella scorsa legislatura, l'interrogazione era dei 5 Stelle se non sbaglio, nella scorsa legislatura ci fecero un governo insieme e la Lega aveva gli stessi alleati in Europa di oggi, senza turbamenti di alcun tipo. Se non c'era da preoccuparsi allora, non c'è da preoccuparsi neanche adesso. Lei è preoccupato per le alleanze che si sceglie e che rivendica Matteo Salvini in Europa? Pensa che quel posizionamento di Salvini danneggi il governo italiano ai tavoli europei? Beh, guardi, a Tajani è strano che nella sua funzione è sfuggita una cosa, che nel frattempo è scoppiata una guerra e quelli che sono andati a Firenze non sono più soltanto anti-europei, sono spesso filo-putiniani. E hanno detto in alcuni degli interventi che il sostegno all'Ucraina e persino a Israele non potrà essere. Questo forse un po' dovrebbe cambiare le carte in tavola rispetto a quello che sostiene Tajani sul posizionamento geopolitico del nostro paese, però vedo un po' lui. Però la Lega dice che noi all'atto pratico abbiamo sempre votato per i finanziamenti all'Ucraina, abbiamo sposato una linea nettamente filo-israeliana, quindi se altri in questo gruppo hanno posizioni diverse, è la libertà che secondo Salvini era il mantra di quell'evento. Sì, però tutto bene, però Salvini non è che si limita a fare delle scampagnate nel fine settimana con questi. Salvini vorrebbe che questi facessero parte della coalizione che regge il governo europeo. Se il governo europeo fosse retto da questi, probabilmente la nostra posizione nel conflitto russo-ucraino sarebbe stata diversa rispetto a quella che abbiamo sostenuto fino a qui. Grazie ad Andrea Orlando per essere stato con noi, ci ritroviamo presto.